Ben ritrovati cari amici di Rete7, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Il tempo peggiore proprio sul nostro territorio nella giornata di martedì e non solo. Guardate, in questo avvio di settimana comunque temperature quasi primaverili, certamente non invernali, magari con un clima un po' più autunnale. Dopo il freddo e la neve, che è durata però, se il freddo e la neve sono durati davvero poco, dovrebbero durare di più in dicembre, comunque staremo a vedere, per il momento non ci sono grandi scossoni, torneremo appunto ad un clima un po' più autunnale. Martedì, nuvole, piogge, qualche fenomeno anche di moderata intensità, nevicate oltre i 1600-1700 metri, insomma a quote piuttosto elevate. Vedete, vedete, la situazione tenderà, scusate, a migliorare sulla parte più occidentale, o meglio centro-occidentale del Piemonte, nella seconda parte della giornata. Però a tratti, avete visto, ci saranno delle piogge anche di moderata intensità. Guardate le temperature, beh, continueranno un po' ad aumentare, anche se non di molto, perché comunque le nuvole e le piogge tenderanno ad inibire questa risalita termica che c'è in quota, se mai aumenteranno appunto a quote medio-alte. Per il momento è tutto, amici Diretta7, io vi lascio i nostri programmi, rimanete con noi.